Arrivo con tanta voglia perché comunque sono stati tre mesi difficili per me perché non ho visto campo. Mi piace divertirmi, mi piace giocare e quindi sono venuto qua con tanto entusiasmo un'ennesima volta. Penso che l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo rigiorno d'andata. Il giorno di ritorno con il Covid è andato un po' diverso perché bisognava abituarsi al non pubblico, a un calcio diverso, le squadre venivano a giocare magari dentro uno stadio vuoto che è come se giocare in casa quindi è stato un campionato un po' più equilibrato per tutti e si vede anche quest'anno comunque sempre equilibrato. Mi sento bene, come al solito torno qua, mi inserisco subito perché conosco i ragazzi anche dall'anno scorso, poi quelli nuovi ci conosceremo molto presto perché non ci metto tanto a inserirmi e a farmi volere bene dagli altri. Quindi sono qua, cerco di dare una mano a tutti e mi metto a completa disposizione. Io ho sempre dato tutto me stesso per i Cagliari, io so che aspettano tante da me, infatti sono venuto qua come detto prima con tanto entusiasmo, mi rimetto di nuovo al massimo per questa squadra, per questa città e come ho sempre fatto do al meglio di me stesso. Penso concludere nei modi migliori quest'anno perché penso che c'è sempre tanta potenzialità in questa squadra e speriamo di migliorare i risultati perché il gioco c'è, manca un po' di continuità, però ripeto sono venuto con entusiasmo e cerco di portare un po' di esperienza a questi ragazzi. Diciamo che il 2020 è stato un anno particolare per tutti, per noi giocatori, per tutte le società, per i tifosi, speriamo che il 2021 innanzitutto può migliorare tutti questi aspetti e poi anche a livello di risultati personali e anche del Cagliari dell'anno scorso di ritorno, speriamo di cambiare completamente rotte dai. Io perché ho giocato poco quest'anno, l'anno scorso ne ho giocate però i risultati magari non erano quelle che aspettavamo quindi speriamo di rivolgere il 2020 in risultati positivi nel 2021. Ciao di nuovo a tutti i tifosi rosso-blu, sono contento di essere tornato e forza Casteldo!